Buonasera, oggi ricorre la memoria della Beata Enrichetta Alfieri, cosiddetto l'Angelo di San Vittore per la sua dedizione ad assistere le detenute del nostro carcere più importante, più antico e qui nell'Istituto Tumori dove mi trovo è stata particolarmente significativa la sua beatificazione, perciò partecipiamo con tutti alla preghiera per i malati e per i carcerati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ecco credo che sia importante imparare le preghiere, anche le formule delle preghiere, il vantaggio di saper cosa dire, c'è anche lo svantaggio di ripetere senza pensare, senza amare, senza essere presenti, perciò chiediamo il dono dello Spirito perché le parole che diciamo vengono dal cuore, dalla mente e dalla bocca. Ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questo giorno, perdonami il male oggi commesso e se qualche bene ho compiuto accettalo, custodiscimi nel riposo, liberami dai pericoli, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari, Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, esplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste, Amen. Preghiamo per le vocazioni, preghiamo per la pace, preghiamo per tutte le grandi intenzioni del mondo. Io invoco per voi tutti la benedizione del Signore, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Amen. Buonanotte, buona domenica. 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 Buonanotte, buona domenica.